Sono le 16.30, manca meno di un'ora e mezza all'inizio della partita, le formazioni devono ancora essere confermate perché la squadra è in arrivo, grande attesa, questo Milan-Juventus stadio colmo, tantissimi giornalisti anche al seguito, tv, radio, giornalisti di ogni paese pronti ad escrivere e raccontare questa partita, quindi siamo quasi pronti, guardate quanta gente c'è che sta entrando allo stadio, ci sentiamo, ci aggiorniamo tra poco su Max Time, mi raccomando iscrivetevi, basta un click e sarete aggiornati sempre su quello che succede in area Milan, quindi vi aspetto e vi aspettiamo poi a Radio Milan Inter lunedì dalle 15 alle 17 con The Day After su 96.1 in streaming, mi raccomando ascoltateci, seguiteci, racconteremo questa partita e speriamo di divertirci, che sia uno spettacolo come si preannuncia, quindi a presto su Max Time e Radio Milan Inter, ciao a tutti, ciao!